Per a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Antemafi e oggi io e Anto ci incontreremo dopo due lunghissimi mesi e andremo all'edicola, ciao, ci vediamo dopo. Non vedo l'ora di incontrarlo raga, mamma ragazzi non vedo l'ora, è da tre, due lunghi mesi che non ci vediamo, l'altro giorno, cioè poco fa mi stavo guardando l'ultimo video che abbiamo fatto, cioè il primo video che abbiamo fatto insieme ed eravamo insieme. E adesso il secondo video dell'anno, o ieri, ieri è stato il primo, non lo so, il primo video dell'anno con Manfri, quindi ci stava ragazzi, comunque stiamo pure andando a comprare delle figurine, sto morendo, non vedo l'ora di incontrare Manfri, spero che non mi prendano di petto. Non vedo l'ora di incontrare Manfri, non vedo l'ora di incontrare Manfri. no, niente Championship. Blanda, è bravo. Cazzo, buongiorno, becciotti. called, sono passata l'edicola. Come? Ma quale? Di quella? Quella Eh ma noi dobbiamo andare di là Di là? Perché pensiamo questa? Ragazzi dopo tanto tempo Due mesi e mezzo Ecco Che puttana No Forza che fai No forza parola Ciao nonna Eh sì Ragazzi Primo video dell'anno Insieme Non lo so Ciao Manfri che parla al telefono Non lo so Dopo tu riconosce Ragazzi Nei commenti Hashtag Manfri occupato Forza Palermo Forza Palermo E Milan Bravo È Roma un pochetto Dai È Roma dai Solo perché ci sta Attendo La La Complicato 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 E E niente Sapete perché Il Palermo è la scuola migliore Della Sicilia? Perché il Catania È stata cinque anni In Serie C Noi da un anno In Serie C Infatti Bravo Però intanto noi siamo falliti Solo per quel Cretino di Di No Di Tutto lo mondo Come si chiama? Tutto lo mondo I fratelli Tutto lo mondo Ed eccoci qui Adesso si registra il mio telefono Il telefono di Antonino si è scaricato È morto Bravo Yeah Però poi Poi Resuscita Eh 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 Ragazzi Niente cosa vuoi che è domani per il Milan? Però non camminare tutti gli schitoschi Tutte te Mi sento tutti gli schitoschi Non mi sento tutti gli schiudati Non mi sento tutti gli schiudati Diccole chiusa Porca miseria Solo queste dico Cioè ragazzi Le dico la chiusa Mannaggia Vabbè grazie In realtà siamo pure zona rossa Forse è chiusa per quelle Ma di solito le Ora andiamo a prenderci una bella monster Si è aperto E se la prendiamo Vi facciamo vedere che la stiamo bevendo Solo Così Perché ci va Ok Pure il bar dove prendere la mossa Eh Chiuso Eh Grazie Allora Buttare il bar No no Allora È ora che prendiamo una pizza Da Dalla mossa Da questa pizzeria In merda La c'è un t La polizia Se ci sghamano Siamo Nella merda Brava No cioè si Mi sto chiamando la polizia Allora Finiamo qua il video Eh Sì Finiamo qui il video Perché poi Ora noi dobbiamo Iscrivetevi Lasciate like E niente Bella E non Non prendete esempio Da questo individuo qua Ciao Ciao